Sono stati aggiudicati in via provvisoria l'unica ditta che ha partecipato al bando i lavori per la messa in sicurezza di via Corsea a Lanciano. Dopo le verifiche amministrative, a luglio potranno iniziare gli interventi tanto attesi da residenti e commercianti per riaprire Vico 2 Corsea al traffico. Sono interventi, dice l'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna, che vanno incontro alle esigenze legittime dei commercianti e ristabiliscono la viabilità della zona che da quasi due anni è in sofferenza. Il tratto di strada venne chiuso a fine agosto 2018 a seguito del crollo di parte dell'antico condotto fognario del Malvaux. Nei lavori si prevede la posa in opera di piastre in ferro che sopporteranno il solo traffico automobilistico. Alla riapertura, infatti, sarà vietato il transito e mezzi di peso superiore alle tre tunnellate e mezzo. Le piastre in ferro saranno sostenute da un sistema di micropali e putrelle adiacenti ai muri perimetrali delle abitazioni, ma senza toccarle. È una soluzione provvisoria, specifica al vice sindaco Verna, accanto alla quale sarà installato un sistema di monitoraggio che all'occorrenza farà scattare l'allarme e chiuderà al traffico la strada in caso di piene improvvise nell'impluvio dell'antica Vallebona. Siccome gli interventi da farsi vanno nella direzione di una messa in sicurezza dal punto di vista idraulico e anche della prevenzione idrogeologica, i lavori più importanti consistono in un sistema di pali che andranno a fare da fondamenta a una piattaforma in acciaio di circa un centimetro e mezzo di spessore che quindi andrà a dare stabilità all'intero tratto di via Corsea e nello stesso tempo anche un sistema di allerta con una sbarra che in caso di eventuale piena appunto si abbassa e quindi impedirebbe che possano verificarsi eventi negativi.